Luca Monti, dicevamo con Kovac, in partite così si può avere paura? No, no, però dipende molto dall'approccio alla partita, dipende come si svolgerà la partita un po' di paura da parte di qualcuno ci può anche essere, che magari non è abituato a giocare così tante partite con tanta tensione però insomma, io direi che questa sia una partita che tutti i giocatori vogliono giocare, non che abbiano paura di giocare In gara 4 avete giocato poco in primo tempo, va bene, la ricezione non era quella dei giorni migliori è un aspetto che avete cercato di ritoccare in questi giorni o avete pensato soltanto al recupero fisico? Abbiamo fatto entrambi, abbiamo riposato, abbiamo cercato di ricaricare le pile, abbiamo parlato anche tanto individualmente e adesso ci manca solo di giocare questa partita davanti a questo magnifico pubblico Questa squadra per carta di identità e per tanti vivi, anche per Palmares, non finisce, sembra non finire mai Giacenza va in finale se, oggi? Ma io penso che sia indispensabile riuscire a dare molta pressione alla loro ricezione di conseguenza battere con continuità un pochino meglio di quello che abbiamo fatto a Perugia con qualche giocatore in più Grazie, grazie a Luca Monti, in bocca al lupo anche al tecnico